Musica Vi ritrovate alle breaking news di Teletruria, subito in primo piano la giostra del Saracino che si correrà domenica 3 settembre. Questa mattina in comune è stata presentata la lancia d'oro dedicata ai 100 anni dell'Arezzo. Grande soddisfazione è stata espressa da Paolo Bertini, consigliere delegato, vista anche la promozione della scorsa stagione per gli Amaranto. Inizialmente, ha detto Bertini, alcuni puristi erano contrari, ma la città tutta ora si è unita e si è stretta attorno a questa dedica. Ed ora veniamo alla cronaca. Obiettivo sicurezza. La questura di Arezzo, come tutte le questure d'Italia, mettono in guardia su questo primo fine settimana di controesodo. E infatti oggi pomeriggio nel tratto aretino della 1 c'è stato un incidente intorno alle 16.30, uno scontro auto-moto. Un 34enne, il centauro, è rimasto ferito ed è stato portato con il Pegaso a Careggi. A Firenze anche la moglie con l'ambulanza. Si tratta di un incidente piuttosto grave, lunghe le code che si sono generate nell'autostrada. E domani sarà un'altra giornataccia, previsto anche un peggioramento del meteo. E ci trasferiamo ora invece a Sansepolcro per mostrarvi le spettacolari immagini di questo recupero effettuato dai vigili del fuoco con l'elicottero Drago. Un'auto era finita in una scarpata e i vigili del fuoco hanno dovuto appunto recuperarla. L'aera in un canale di scolo, viste le previsioni, avrebbe potuto creare dei problemi per l'eventuale afflusso di acqua e per non ostruirne appunto il deflusso del canale i vigili del fuoco si sono messi all'opera. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. È tutto per le breaking news di Teletruria. Grazie a tutti voi per la vostra attenzione. Grazie a tutti.